L'esercizio fisico può essere considerato una vera e propria medicina, cioè un supporto agli altri tipi di terapia in caso appunto di una patologia conclamata. Noi ce lo facciamo raccontare dal professor Guido Ferretti, professore di fisiologia all'Università di Brescia e coordinatore delle scuole di specializzazione in medicina dello sport di Brescia, Pavia e di Milano Bicocca. Allora professore come andrebbe prescritto l'esercizio fisico appunto a un paziente che soffre di una qualche patologia, cioè su quali elementi ci si dovrebbe basare? Ma fondamentalmente su uno che è l'esecuzione di una valutazione funzionale correttamente eseguita, che comporta uno test da sforzo eseguito secondo i criteri diciamo ormai canonici con la valutazione cardiovascolare. I risultati del test da sforzo devono inoltre essere in seguito essere valutati, analizzati da un medico dello sport che sulla base dell'identificazione dei parametri di riferimento, massimo consumo d'ossigeno, soglia anaerobica, concentrazione di acido lattico, idealmente anche potenza critica, poi è in grado di definire l'intensità e la durata dell'esercizio che consenta un effetto visibile, paragonabile a quello dell'effetto di un allenamento su uno sportivo. Quindi gli esami che si fanno normalmente per ottenere appunto l'idoneità ad andare in palestra per dire non comprendono questo tipo di esami, mentre invece per chi soffre di una qualche patologia andrebbero fatti? Certo, l'idoneità per il medico sportivo però ha un altro scopo che è quello di accertare l'esistenza di patologie in atto che precludano alla pratica sportiva, mentre qui si tratta di definire i criteri e i parametri con cui eseguire degli esercizi a scopo di allenamento in pazienti sofferenti di malattia. Sono due scopi diversi. Senta professore, vediamo appunto scopo didattico di avere da lei qualche suggerimento per le patologie diciamo così principali. Incominciamo da un paziente che sia cardiopatico e abbia appunto problemi di ischemia. Che cosa dovrebbe orientare la prescrizione di esercizio fisico in questo paziente oltre a quello che ci ha già detto? Ma fondamentalmente deve essere orientata anche dalle risposte pressorie che la persona ha. Non ci deve essere diminuzione della pressione arteriosa tra due carichi di lavoro successivi. Se questo si verifica, la pratica regolare dell'esercizio deve essere a intensità molto bassa. Naturalmente questi sono i casi più gravi in prevenzione terziaria che, vabbè, insomma non si può immaginare un esercizio in questi pazienti effettuato come potrebbe essere in prevenzione di un incidente cardiovascolare di un iperteso. È una situazione differente effettivamente. Però bisogna stare molto attenti alle risposte personali dell'esercizio. Bene, passiamo alla broncopneopatia cronocostruttiva. Affligge milioni di italiani. Cosa dovrebbero fare questi pazienti? Che cosa si deve tener conto? Appunto il medico deve sapere per poterli prescrivere il corretto esercizio fisico. Ma qui il problema è diverso, nel senso che l'esercizio fisico non serve per quanto riguarda lo stato patologico in sé. Ma siccome in questi pazienti si ha un deterioramento muscolare perché hanno una sedentarizzazione estremamente spinta, l'esercizio serve a recuperare quel tanto di funzionalità muscolare che permetta una vita un po' più attiva. E quindi l'esercizio va prescritto a dosi relativamente basse, però molto continuative. Quindi anche tutti i giorni? Anche tutti i giorni, sì. Senti, vediamo infine ai diabetici. Sono 5 milioni di persone in Italia che soffrono di diabete. Che esercizio fisico dovrebbero fare? Beh, il diabetico dovrebbe fare un esercizio fisico allenante. E quindi vuol dire di intensità comunque superiore alla soglia anaerobica, non più di 4-5 volte alla settimana, però di durata sufficientemente intensa. A questo si associa anche l'esigenza spesso di calare di peso, naturalmente nel caso del diabetico, per calare di diabete di tipo 2. E quindi cosa stiamo parlando? Della camminata intensa? Del nuoto? Di che cosa? No, la modalità di esercizio può essere qualunque, ciascuno se la sceglie in funzione delle sue preferenze. Quello che conta è che sia l'intensità adeguata a ottenere gli effetti. Dopodiché se uno preferisce nuotare lo può ottenere col nuoto, se uno preferisce camminare lo può ottenere con la marcia a velocità intensa in questi casi. Può anche ottenerlo con la bicicletta. Quello che conta è l'intensità e la durata. E la frequenza cardiaca in che limiti dovrebbe rimanere? Dipende dal risultato del test da sforzo. E gli interviene il medico dello sport a definirlo. Quindi ci faccio un esempio, così capiamo. Faccio un esempio. Mettiamo, uno fa un test da sforzo, viene fuori che ha una frequenza cardiaca massima a diciamo 180 battiti al minuto e una frequenza alla cosiddetta soglia anaerobica di 140 battiti al minuto. Beh, in questo caso l'esercizio dovrebbe collocarsi a una frequenza tra i 150 e i 160. Adesso, tra l'altro, ci sono tutta una serie di aggeggi che si possono indossare che consentono di avere un monitoraggio costante. Non di questi parametri. Certamente, questo potrebbe essere una cosa utile portare durante gli esercizi.